ciao ho trovato questa caverna in questo bellissimo parco parco Marenzi siamo a Bergamo si continua a girare un pochettino per l'Italia te posso dire che mi sta piacendo particolarmente sto trovando i bergamaschi molto gentili e soprattutto una città di Napolizia inaudita di un ordine assurdo io non sono abituata a questa situazione oggi cosa si fa si continua la serie dedicata allo street food unto cercheremo di provare un po di posti io ho chiesto qualche consiglio a voi su instagram sempre belli attivi bergamaschi ma consigliatemi qualcosina queste sono tutte le segnalazioni che mi sono arrivate mi piace questa particolare attenzione e voglia di condividere ovviamente a livello di street food bergamo non offre le stesse possibilità che offrirebbe Roma o Napoli o magari altri luoghi che abbiamo già visitato quindi il mio obiettivo sarà poter integrare sia qualcosa di tipico che come da prassi durante gli street food unto anche cose non tipiche ma che meritino l'attenzione della sottoscritta partiamo da un panificio poi ci spostiamo magari ci facciamo un pochettino dei formaggini che noi siamo arrivati qua ieri abbiamo mangiato un po di formaggi perché che fai vieni a bergamo e nei propri formaggi ho trovato un posto molto interessante che è una gastronomia abbondantemente promettente un po carino adesso posso bel palco un bel verde tranquillo in ordine a regà è arrivato quel periodo dell'anno io sono una di quelle sfigate che l'estate dato che su donna cifra come ti ho già detto innumerevoli volte c'è stata la meta pezzanzare che se devono scegliere una stanza di dieci persone che colpi domino un po da chi vanno mentre ci spostiamo al primo panificio qua c'è un ristorante giopi e la margi che mi avete consigliato in molti per bergamo però ovviamente ragazzi è difficile che io faccia dei video monotematici generalmente però in questi giorni di permanenza se riusciamo un saltino lo facciamo magari anche off cam anche quello è bello no per incastrare i vari impegni i vari spostamenti perché molto spesso magari quando giro per l'italia mi dite però non sei andata lì è però ti sei dimenticato di menzionare questo non hai visitato quest'altro ragazzi quando si viaggia generalmente si organizzano sempre degli itinerari e si cercano di incastrare gli impegni gli orari di chiusura e di apertura oggi è lunedì molti posti sono chiusi di lunedì quindi questo video sarà diviso in due cambierà anche l'abbigliamento per poter integrare quanti più posti possibili che meritano non te la prende se non ci sta il tuo posto del cuore non posso stare a bergamo una settimana dieci giorni o un mese sto per strada nel post premiato vanificio vanotte so curiosa essa botta perché su google aveva ottime recensioni ma non aveva foto quindi sicuramente una fetta la prendo tutto da portar via ovviamente ci hanno delle cose fighe cose tipiche poi un'altra cosina assolutamente ho speso 7 euro e 57 centesimi sono entrata avevano sia elementi dolci quindi colazioni cornetti crostadine altre cose che sinceramente non ho mai visto in vita mia e anche una sezione dedicata al forno focacce però non le ho prese perché mi attiravano ma non troppo quindi ho deciso di andare su qualcosa di più tipico mi sono anche fatta consigliare un po di cose tutti alimenti che io non ho mai provato in vita mia quindi qualcosa di nuovo passiamo da questo che è una sorta di torta caprese ha detto fatta con farina normale ha detto che ci aggiungiamo una percentuale di farina di mais quindi dovrebbe ricordare vagamente concettualmente un po la questione della della polenta tipica sono molto curiosa è molto morbida e per niente secca zero è anche un po caldina se ti posso dire andiamo allo spacco c'è un odore assurdo un tavolo ma donna mamma mia di una semplicità incredibile sembrava di mangiare un dolce fatto in casa ma fatto in casa da uno che sa utilizzare al forno perché la cottura è uniformissima e non si è asciugato per niente internamente guarda che bella che è il problema di quando ti ritrovi a fare questi dolci in casa è che magari ti vengono troppo cotti sopra oppure c'è il forno un po difettoso quindi dietro ti vengono più cotti se bruciacchiano questa è pazzesca credo ci sia anche del burro non è eccessivamente grassa buonissima e non sono amante di dolci è un dolce non troppo dolce amici bergamaschi perdonatemi se sbaglierò nomi e pronunzio se non ricordo effettivamente i nomi dei vari alimenti che ho preso altra tipicità mi sta sfuggendo il nome in questo momento se lo sai lasciami un commentino con il nome e mandami anche un po accettino perché sennò pare che mi stai a sgridà cioè cerca di correggermi di si chiama così però non lo so metti un cuoricino nemoci d'accordo allora libera d'aspetto è sembra quasi vinto eh se ti posso dire non mi attira molto però mi ha detto che è tipico ma sai che mi ricorda sarà la cottura sembra la goccia dell'ovo questo dovrebbe essere un pane sempre dolce non so come si mangia a bergamo qua si vede come è stato fatto l'impasto una sorta di ricorda un po il cinnamon roll ma è buono panificio arte bianca la sanno lavorata a dio questo sicuramente è un tipo di pane che io farcirei con qualcosa qualcosa di dolce anche la nutella magari una cremettina all'anagardo sto periodo mi sto a mangiare la crema all'anagardi 100% anagardi come fonte di grasso sano che tu voglio fare ultimo dolcetto per iniziare questo video con il piatto è giusto a regà non mi ricordo come si chiama però è enorme è una sorta di pan brioche molto zuccherino molto alto e molto morbido guarda che bella sotto ovviamente va al peso mi ha chiesto quanto ne vuoi mi stava a fare una fettura enorme io ho detto no guarda grazie ma di meno è troppo ma che è? ma che è? amici di bergamo ma che è? non l'ho mai provato prima allora al primo morso mi è arrivato un leggerissimo aroma di lievito come se non fosse stato cotto al 100% infatti ci sono delle parti meno cotte almeno da quanto avverto al palato sento un po' di profumo di lievito che è una cosa che in genere sentirla in bocca non è il massimo ma a livello di morbidezza gusto anche una cosa nuovissima mentre suonano queste campane ci spostiamo al prossimo va bene? un po' di formaggi che dici? comoda sta cosa che c'è stava fontanella pure fresca ci tengo a ringraziare l'unico ragazzo che mi ha consigliato sta cosa mi ha fatto tagliare perché l'ho letto e ha detto è anche il panificio Vanotti più sgravato dell'uomo fuo che a Cina grazie e grazie anche agli altri per le segnalazioni ma quanto è bella bergamo ogni tanto ripenso agli anni passati della mia vita in cui ho avuto modo di visitare molte città in Italia ma non avevo ancora un canale youtube ed ero anche troppo piccola quindi a posteriori rosico un po' per non aver potuto avere dei ricordi tangibili però non è mai tardi per recuperare ma questa installazione sono tutti indumenti camicie bianche e celesti o comunque colori tenui mi ricorda un po' quando abbiamo visitato Napoli no? ovviamente ragazzi sono contesti differenti però a Napoli si usa anche nei quartieri un po' più ristretti i quartieri spagnoli mettere indumenti appesi qui ovviamente non è per una scelta logistica quanto più per abbellire, scoltoria chissà perché, non so, sei di Pergamo? perché c'è questa cosa qui? no, sono curiosa cosa sta a rappresentare? oh questo se l'avessero messo a Roma già subito si sarebbero sciolate tutte le camicie qua invece stanno lì, sembrava pure pulite io quasi quasi pensierino assaggiamo qualche formaggio in prossimità del palazzo di giustizia perché siamo stati qui il giorno dell'arrivo molto interessanti e buoni quindi ho detto quasi quasi questi formaggini potrei inserirli nel video dello street food unto magari non è il posto migliore a Bergamo per consumare formaggi però hanno un'ampissima selezione anche di zone limitrofe a Bergamo che ho detto ma scusa perché lasciarla lì? sta a schiattà ma come mi è venuto in mente di mettere il pantalone lungo a giugno nero regà, mentre attendo i formaggi pausettina coca zero selezioni i formaggi che come sa che a sta botta la faccio spiegare alla cameriera perché io non sono intenditrice mi piace mangiarli io sono topo da piccola proprio è uno di quelli che ha il formaggio e il parmigiano e quello e quell'altro e quello sardo sono a goduria, sono grassi però non si può dire no oh ma intanto un assaggino di polentina che dici? c'è sta la noce moscata e i puttano di noce moscata io la sento non tra i migliori della mia vita come volenta partiamo dal centro con una lattica di capra lattica fresca di capra al fondo valle della Valle Brembana c'è un formaggio dei Mut marchio rosso fresco, sui santa giorni di stagionatura uno storico ribelle con formaggio dal peggio della Valtellina con una piccola percentuale di latte di capra 15% la restante latte vaccino poi abbiamo una sequenza di tre formaggi della latteria di Aviano un modesto italico e giovacco quindi una pasta semidura stagionata oltre 12 mesi questa è lo stesso processo sui sei mesi con delle vinacce questo è una pasta molle sempre latte Aviano latte vaccino e questo è un gorgonzola dolce di OP trovate un pochino di mostarda dell'azienda agricola migliostroppa mostarda e fragole poi ci sono delle confetture un po' di luci e frutta secca grazie mille capisci perché ti dico che io non avrei mai potuto elencare i formaggi presenti voglio dire di partire con questa che non ho assaggiato ieri sera guardi ti ho mangiato una pecora intera proprio super pecoroso e anche una punta credo sia di origano sopra forse è uno dei meno stagionati procediamo con questo ci mettiamo anche un po' di confettura bello importante al mozzo non troppo duro non troppo secco una bella pasta che poi con la confettura che ti dà quel tocco di dolcezza te posso dire che da disco questo penso sia un po' più stagionato non so vediamo molto buono questo avverto rispetto a quello di prima dei granelli molto simili a quelli che mi ricordano quando mangio solitamente il parmigiano reggiano non ho la stagionatura quei cristallini tipici del formaggio stagionato facciamo un po' di questa guarda questo come tra suda rende invidio guarda come suda sembra sembra Roberto archeologico staggiamo da sola poi vanno mangiati comunque in un determinato ordine per rispettare i vari gusti che non sarà questo qui che sto portando avanti io perché mi sono dimenticata di farmi spiegare l'ordine sono comunque buoni importanti ti si riempie la bocca di una patina di grasso imponente ed è per questo che ci bevi su guarda questo che bello guarda che bella buccia di una compattezza incredibile anche in bocca il più intenso tra questi provati dopo questo piatto puoi più baciare nessuno nella tua vita praticamente impastata di formaggio sta bocca questa sembra una sorta di di non me ne vogliate di brì ricorda un po' l'estetica ovviamente ma non parliamo di un formaggio francese molto più intenso a livello di gusto molto buono però purtroppo mea colpa dopo aver provato questo passare a questo è uccidere questo ma perci troppo poco però è un peccato perché è molto buono per concludere assaggiamo l'ultimo nonché quello che mi ha colpito di più la scorsa sera che l'ho provato al cucchiaio quindi proprio gorgonzola dolce erborinato al cucchiaio guarda che bello che è questo qui che ci aggiunge un po' di confettura alla morte sua e ti dirò di più ma perché non aggiungerci il tocco personale la noce noce gorgonzola e risotto lascia aperto e pera e noce non ce la posso fare questo è troppo buono senti le varie consistenze la parte un po' più dura della muffa del gorgonzola la parte cremosa che ti si scioglie in bocca sparisce mamma mia ma questa fragolina che hanno messo qua ma un assaggino io dici te no guarda che bella che è io assaggerai con questa è pazzesca bella di voi che c'è questi formaggi a Roma siamo molto più limitati sotto questo punto di vista a te ti piace il formaggio? c'è una divisione netta tra mi piace troppo e non mi piace per niente io sono una di quelle che lo ama profondamente si sente? ho speso tagliere 20 euro coca zero 5 euro avevamo preso pure una birra che però ci hanno offerto quindi l'ho pagata io te lo dico sono sempre sincera dopo questa scorpacciata di formaggi io ti direi torno un attimo in albergo mi vado a cambiare mi acchito un attimo meglio perché io a Bergamo Alta a mangiare il gelato a stracciatella così non ci posso arrivare che inizio a grondare mi riacchiappo e se spostiamo questo video è un video lungo richiederà molto tempo cioè io devo arrivare laggiù io non ci posso arrivare col pattolone invernale anche perché ci devo arrivare in terra non arenata tipo balena spiaggiata ma perché è tutta una salita e una discesa in questa città qua c'è scritto zona 30 nel limite di 30 se puoi rispettala grazie ma quanto sono educati cioè ti chiedono se puoi rispettala se lo potresti lo puoi rispettare per favore dai ti prego te ne sarei eternamente gra tranquillo se me lo chiedi così poi proprio guarda stai tranquillo che te lo rispetto meno male che sono venuta a casa a San Diego perché qua se no salita discesa discesa salita la pendenza aumenta e anche il sudore e no e no e lui non la sta rispettando cioè lui se ne sbatte altamente ti ha chiesto se puoi rispettala lo switch sto a morire guarda che bel paesaggio con le mura e tutto quanto ci attende una faticosa camminata al sole che però ci porterà a gustare qualcosa di fresco guarda che bello tu pensa avere una casa che affaccia su un panorama simile in modo tale che il bagno la finestra del bagno magari con il water accanto ho un'amica che c'è a casa in montagna una volta sono stata da lei e c'era la casa che affacciava sulle colline credo sia stata la cagata più emozionante della mia vita oggi è il viaggio dalla vita proprio però fortunatamente a consolarmi c'è ma quello ma quello è il medio qua è tutto così tanto pulito che anche gli sticker sono difficili da incontrare proseguiamo siamo in dirittura d'arrivo altri 100 metri desugna desudore vado entro prendo un gelatino alla stracciatella si spostiamo perché qua c'è una bella vista mi devo sbrigare perché sennò si scioglie che fai entro prendi un gelatino alla stracciatella nato qui proprio negli anni 60 è un gusto che in genere ne tendo ad evitare perché non mi fa impazzire sinceramente quindi che cos'è si tratta di un fiordilatte con del cioccolato fuso caldo sciolto dentro fatto cadere dentro in modo tale che si creino le scaglie di cioccolato fondente durette e croccanti sotto al palato siamo a Bergamo Alta centro storico prezzi alti però contestualizziamolo alla zona è come prendere un gelato a Roma centro una coppetta con gusto 2,50 euro non è manco così grande lo scontrino me l'ha fatto me l'ha dato solo che gliel'ho lasciato quando mi ha dato il gelato ho pagato un gelato e un altro dolcetto che adesso ti spiegherò tipico 8 euro vediamo se i pezzettoni di cioccolato ci stanno è molto dolce molto dolce troppo dolce per i miei gusti in compenso i pezzi di cioccolato fondente sono perfetti i più grossi che io abbia mai provato quantomeno per un gelato alla stracciatella molto buono il fior di latte ti lascia mangiare è un po' troppo ghiacciato per i miei gusti come gelato non è così cremoso e avvolgente è un buon gelato non è tra i migliori che io abbia mai provato passiamo alla prossima cosa questo dolcettino che si chiama polenta EO6 vediamo se riesco a prenderlo senza distruggerlo lo vedi questo sopra? questo sopra sta a rappresentare un uccellino e questa sotto fondamentalmente è una polenta perché nell'antica tradizione quando si andava a caccia tendevano i cacciatori a a ciuffare gli uccellini e li portavano ai madri ai mogli e gli dicevano ti è? io sono andato a caccia ti ho preso uccellini mettili a coce in un pentolone cottura lenta bella sugnosa sugosa si utilizzava abbinarli alla polenta quindi queste distese di polenta buona polenta io le adoro e si metteva la cacciagione sopra è un'usanza che ovviamente si è andata a perdere negli anni e adesso negli ultimi anni si sta integrando con altre tipologie di carne quindi manzo roba un po' più marinata non necessariamente cacciagione come si usava a fare un tempo e quindi hanno creato questo dolcettino tipico che si chiama polenta EO6 la mia domanda a questo punto come si mangia sto coso? questa che vedi esternamente è una pasta di mandorle crema all'albicocche questa qui sotto e gianduglia penso ci sia la gianduglia solo nell'uccellino nel volatile vediamo com'è sotto mi arriva il primo odore del rum al kermes non lo so tipico di Bergamo 5,50 euro sta monoporzione ma c'è la gianduglia che penso panni spagna ma queste granelline di zucchero molto grossi che scoppiettano in bocca non mi dispiace credevo si avvertisse di più l'alcol in realtà è molto tenue molto tenue ed è anche molto dolce molto dolce questa è una sorta di mousse alla gianduglia un dolce tipico sicuramente da provare soprattutto se ti ritrovi a passeggiare per le vie del centro per gusto personale da un morso e mi ha già stoccato è molto dolce sul gelato mi aspettavo di più era un buon gelato soprattutto per quanto riguarda i pezzi di cioccolato interno il resto era un po' piatto sarà che a Roma non ho provato alcune gelaterie e lascia perdere ti sei visti i video in passato dove ho provato delle gelaterie buone non mi scrive Giulia dove si mangia buon gelato a Roma time skip è un altro giorno a Bergamo questa parte nel video non sarebbe dovuta essere inserita perché il video dello street food unto ho già finito di montarlo l'avevo anche programmato però una certa tirando video in questi giorni ho scopato totalmente a caso una gelateria che è stata la fine del mondo credo uno dei gelati più buoni della mia vita giorni fa ho detto senti questa qui mi piacerebbe inserirla nello street food unto però ormai ho finito di registrarla invece oggi stavo andando a piangere ho detto sai che c'è ma cancello il video programmato e gliela faccio provare gelateria naturale oh donno mio ho visto gli orari su google c'era scritto che avrebbe aperto a mezzogiorno siamo arrivati prima perché solitamente c'è fila sono le 11 e 25 manca lo faccio vedere perché c'è il sole che mi batte sullo shawami da quanto ho capito col fatto che gli ingredienti sono molto limitati e freschi c'è il rischio che chiuda prima del previsto quindi se ci devi non ti affida agli orari che vedi su google magari mi dice pure prima perché io non so a che ora è aperto oggi quindi mi hai detto questo è non ti chiudo gelato a un piatto molto strano e adesso la cultura italiana limone cosiera sorbetto autentico tutta scorza va volentissimo fai di affioramento montata a mano e cosa va di più della vita ho fatto una fila abbastanza importante sono le 11 e 57 hai visto quando ho iniziato più o meno a mettermi in fila ho preso un paio di gelati che si stanno sciogliendo istantaneamente perché si schiatta di caldo il ragazzo è stato gentilissimo questi sono i due gelati come si presentano un pistacchio crudo che è uno dei loro pezzi forti sono molto curiosa di assaggiarlo e questo qui è principe si chiama un gusto che non ho trovato l'altra volta che ho provato un limone particolare me lo sono fatto spiegare solo che in questo momento ho dimenticato tutto e si sta sciogliendo buccia di limone madonna mia oh e il limone in genere è un gusto che io tendo ad evitare perché il limone vabbè ma che sarà male avete mani a un limone di quelli biologici non trattati dolcino ma non troppo pistacchio no no regà sono a poesia sti gelati sei un mago sei un mago assaggiamo la crema io non so come non te la soddisfre un'armonia incredibile e morbida e delicata al contempo molto incisiva per l'uovo avete una perla bergamo che invidio altamente di non avere anche a Roma ti prego il ragazzo che lavori qui con tutta quella passione si mette a spiegare a ogni persona il suo gelato infatti le tempistiche di attesa sono un pochettino lente però ne vale la pena è un'esperienza da fare apri a Roma ti prego tutti i gusti che hanno hai visto hanno una decina di gusti poca roba come è giusto che sia tiratura limitata quindi arrivi e c'è il rischio che molti gusti dopo un paio d'ore già non li trovi più c'è scritto su google che chiude ai 18 ma magari passi di qua ai 15 del pomeriggio è già chiuso perché ha finito tutto chi te la fa sta cosa e qua pensano tutti a lavorare all'ingrosso invece lui si fa i suoi 10 gusti la mattina lavora a una certa finisce bella per te se vediamo il giorno successivo vediamo cosa trovo cosa trovo nei boschi ho visto in passato anche altri gusti tipo gels io non ci voglio donare prezzi 2 euro sono da due gusti 3 euro quello da 3 eccellente per la qualità del gelato io non ce la posso fare questo che hai visto era da 3 da 3 a livello quantità di dimensione però mi sono fatta mettere due gusti solo perché non volevo creare un dislivello troppo grande quindi potermeli godere appieno vienici e ti cambia la vita sto gelato ma cazzuoli però a Bergamo non c'è bisogno di tutto questo affetto addirittura voglio dire dedicarmi una via non c'è bisogno qua c'è un fast food di polenta però ho dato un'occhiata su internet non mi attirava particolarmente ho visto anche andando a fare la polenta dei coway con vari gusti sopra vari topping un format un trito e ritrito un po' come i poke a Roma e i fast food di pasta fresca in piano centro come abbiamo visto in passato ho visto anche che fanno la polenta con la Nutella perché a Regà gastronomia negozio di alimentari con delle tipicità questo mi aveva incuriosito molto in realtà ci siamo spostati stiamo un po' più verso la zona della stazione quindi non c'entro un po' più fuori entro prendo qualcosina un assaggino e facciamo le conclusioni del video un paio di cosettine una gastronomia gestita da due signorotti e una coppia un po' anzianotta molto carini deliziosi sono stati gentilissimi praticamente sono entrato ho visto tutti questi barattoli con le loro conserve i loro peperoncini scritto a mano un po' come si faceva un tempo è sembrato di entrare a casa di una nonna che organizza il suo scaffale con tutte le sue conserve e le sue passate di pomodoro credo sia più un posto che si presti per mangiare dentro io ho preso ciò che vedevo in vista lì davanti molte cose interessanti ho speso 8,10 euro partiamo da queste scarole queste sono scarole proprio di bergamo fatti al forno ho visto i carinelli ho detto non possono restare lì queste qua io le prendo quasi quasi una cosa a salutare ci sta ogni tanto uno street food fresche guardate la cottura senti che scrocchia ti sta sentendo non lo so ci sono cose semplici che io mangerei ad oltranza nulla di oh wow incredibile però ti sciacquano un po' la bocca polpettine con vari gusti polpetta con orzo ceci e prezzemolo con un po' di limone questa arancione che vedi è con peperoni pollo e cotto e poi un'altra con masala dato che le fanno loro e se vede che sono fatta in casa ho detto un assaggino vuole dare partiamo da questa ok c'ha dei profumi degli aromi che ricordano un po' la cucina indiana infatti avevano molteplici spezie quel genere di alimento che quando lo vedi devi a voglia di sperimentare e di provarla nelle varie pietanze che cucini a casa molto buona vediamo questa questo è come si presenta all'interno vediamo da botta fresca del limone queste sono pazzesche queste sono pazzesche ma sono buone mamma mia le cose più semplici del mondo ma che funzionano come qui mi sa già questa è pazzesca buona questa è proprio all'infinito da mangeresti peperonelli queste mi sono dei peperoni di mia madre che fa al forno che gli fa un po' sbruciacchiare io dico sempre ma non gli fa sbruciacchiare gli fa li sbruciacchiare poi è pure cancerogeno Giulia però sono più buone ho capito ma io ci tengo la mia vita senti proprio la materia prima cruda nuda integrale così com'è buonissimo gastronomia verdier verdier perché c'è la bandiera italiana e francese perché credo che il marito sia francese e lei sia italiana hanno creato una bella combo carino posso che ti consiglio se sei a Bergamo o se magari ci arrivi tramite la stazione perché tanto so sei 100 metri a piedi si conclude qui questo video di street food unto e non a Bergamo che è stata una meravigliosa sorpresa se te posso dire partire da cordialità la gentilezza dei bergamaschi super carini e anche belle sorprese per quanto riguarda il cibo sarebbe carino se potessi tornare a Bergamo e provare altre prelibatezze comunque nei prossimi giorni in realtà se te posso dire stiamo già assaggiando delle cose molto buone ovviamente non tutto è inseribile nel video e quando possiamo ci ritagliamo anche un momento per farci un pranzo o una cena in tranquillità off cam ti ringrazio per aver visto questo video qua c'ho un po' davanti della gastronomia che ora le macchine mi scofano come una matta sono proprio buoni Bergamo una bella sorpresa se te posso dire guarda che belle bici che ci stanno qua pure le bici in sharing sono tutte ordinate a Roma i drovi se i drovi i drovi gettati a terra o con le ruote bugate o senza arsellino è mai una gioia ma io dico ma ci vuole tanto a rendere una città minima di disciplina prima una certa ho fatto la romana di turno stavo ad attraversare sulla strada non sulle strisce proprio la tipica romana pigra mi so pure sentita in colpa infatti ho ringraziato ho detto scusami nel momento in cui ho passato il marciapiede si ferma sta ragazza che è quella che mi ha fatto attraversare mi ha detto ciao Giulia grande ti seguo scusami non volevo fare la romana a rega a Bergamo ci stanno i bicicletti in sharing qualcosa per mettere il cellulare che te lo regoli in base alla dimensione del tuo schermo del tuo cellulare questo qui ce l'avevo anch'io e lo monti con una vite tu immagina a Roma una cosa simile car sharing o comunque bike sharing già con i carciavi dei pronti già si sarebbero sciolati di tutte sti cosi non gli frega poi ritrovi al mercato dei portaportesi una settimana dopo e la via va 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 Grazie.